Tu di alta moda ne sai quant'io di matematica e sai questo cosa vuol dire? Che sei un genio. Esatto. Cosa può essere alla coreana? Il pollo alle mandorle. Coco, diglielo tu, perché una volta al mese si svolge la settimana della moda? Perché la moda è ciclica. Se una modella è parecchio formosa, come la definisci? A doppio petto. E dove trovi le curvi? Dopo un rettilineo. Hai capito adesso? Giovanotto, noi cerchiamo un responsabile del processo produttivo. Di quali processi sei esperto? Civile, penale e per direttissime. Ma sei fuori? Per buona condotta. Ma perché pensi di essere adatto a lavorare nel mondo della moda? Perché ho della stoffa. Fuori.